cari amici di mille un'avventura continua la nostra programmazione settimanale e siamo arrivati a parlare del linguaggio c e di come compilarlo con questo compilatore ultraveloce di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana si chiama tini c compiler per gli amici tini cc e abbiamo notato che non è estremamente ottimizzante un compilatore che risale a 20 anni fa quindi segue lo standard c99 però abbiamo anche notato che è decisamente veloce a realizzare dei programmi eseguibili e questo lo avevamo sperimentato già tanto tempo fa quando appunto una ventina d'anni fa provavamo a utilizzarlo per creare degli script in linguaggio c che venivano compilati ed eseguiti istantaneamente che cosa facciamo in questo video andiamo a riprendere questo tini c compiler e proviamo a realizzare una id molto minimale cioè una id cioè quei programmi che hanno l'editor e consentono di compilare il codice che abbiamo scritto andiamo a prendere il programma che vogliamo realizzare ecco e ovviamente questo programma che andremo adesso tra poco ad analizzare tanto per scoprire un po' di linguaggio c come può essere utilizzato ancora adesso per realizzare programmi per windows ecco questo programma lo compileremo proprio col tini c compiler e andremo a vedere le parti che ho aggiunto rispetto a quell'editor minimale che avevate già visto la scorsa settimana allora andiamo a prendere il nostro la nostra linea di comando vedete qui in pratica se scriviamo tcc trattino vi cerchiamo di ecco di ingrandirlo un po' altrimenti non vediamo nulla ecco qui vedete che stiamo usando la versione 0.9.27 di questo compilatore nella versione per windows a 64 bit come il sistema su cui siamo in questo momento ecco siamo in una cartella che si scarica dal sito che vi ho mostrato prima ci sono varie cartelle documentazione esempi e altre cose e c'è anche qui in fondo si vede tcc.exe che è proprio il file che compila il nostro compilatore poi chiaramente ha bisogno di tante altre directory con gli include che per chi conosce il c sa di cosa sto parlando di eventuali librerie di funzioni già compilate e così via ci sono anche alcuni esempi che potrete trovare quando scaricherete questo pacchetto ma andiamo a vedere subito il programma come funziona ecco purtroppo vedete il programma è solo c'è solo il sorgente ccccide.c è il nostro editor compilatore che adesso andremo a compilare perché per il momento è solo questo codice che vedete qui sotto neanche tanto lungo un po' complicato perché per creare le finestre di windows non è non è facilissimo però insomma c'è del codice che è codice normalissimo in linguaggio c allora andiamo a prendere la nostra finestra e visto che il file non è ancora compilato lo andiamo a compilare per compilarlo non so cosa sta succedendo ma per compilarlo devo eseguire tcc il mio compilatore a linea di comando come vedete ma tra poco avremo un id tutta per noi da utilizzare poi dobbiamo specificare a quale libreria collegarci perché vogliamo anche compilare il nostro anzi no in questo caso sì devo mettere anche lib tcc diviso lib tcc punto def poi vado a specificare il file da compilare id tcc probabilmente al contrario ma ce ne accorgeremo subito e andiamo a creare l'eseguibile quindi una linea di comando abbastanza incomprensibile per chi non sa cosa sto scrivendo però diciamo che serve per compilare il programma che ovviamente vedete dice ide tcc non esiste perché perché ovviamente ricordavo male il file che ho appena creato che si chiama tcc ide e allora rovesciamo tutto e vedete che adesso vedrete che adesso funzionerà sembra che non sia successo nulla ma se andiamo a vedere nella nostra directory è comparso un nuovo file che si chiama tcc ide punto exe è l'eseguibile del nostro editor più compilatore e quindi adesso lo andiamo a eseguire eccolo qua ora vedete che si è aperta questa finestra dove c'è già un programma perché ho fatto in modo che il mio editor magari poi ve lo accenno nel codice vada già ad aprire un programma che è esattamente questo vedete c'è un programma scritto in linguaggio c molto minimale con un include che serve per importare le varie funzioni che servono per l'input output altrimenti non vedremo ne potremo scrivere niente e poi c'è la solita funzione main che va a stampare a schermo la classica il classico testo ciao mondo mi sono stupito perché un iscritto mi ha in un commento sotto al video della settimana scorsa mi ha scritto ma come ti sei inventato ciao mondo mi sembra anche abbastanza ovvio per chi conosce un minimo di programmazione è la prima cosa che si prova a scrivere a stampare a schermo in qualsiasi linguaggio di programmazione si vede che non si usa più siamo generazione x neanche boomer generazione successiva allora dicevamo che c'è questo programmino ve l'ho aperto anche con l'editor normale il visual studio qua ecco vedete che c'è il programmino scritto qua a questo punto noi potremmo anche eseguire questo programma schiacciando un semplice tasto però se lo eseguissimo così non vedremo nulla perché viene eseguito il programma stampa la stringa in una finestra e poi si richiude subito quindi andiamo ad aggiungere qui sotto un paio di righe in cui poi che poi useremo anche per fare qualche semplice calcoletto con linguaggio c allora andiamo a creare non so quanto si veda comunque più o meno provate a ingrandire ecco vado a scrivere una variabile che chiamo val che è una variabile intera potevo anche creare una variabile di altro tipo ma facciamo le cose semplici in questo primo tentativo e poi come per scrivere si usa la funzione printf che vuol dire print formattato e poi tra virgolette si vanno a scrivere i testi che vogliamo stampare a schermo e poi vedete qui in fondo ho messo backslash n che vuol dire semplicemente vai a capo tanto per fare una cosa un po' più bellina da vedere ecco c'è come esiste printf esiste nel linguaggio c la funzione scanf che si occupa di andare a leggere l'input di chi dell'operatore che sta scrivendo che sta eseguendo il programma gli facciamo leggere usando sempre un formato vedete qui ho scritto percento i tra virgolette che fa capire alla funzione scanf che dovrà leggere una variabile intera quindi un numero 0 1 2 3 quello che può essere meno 2 meno meno 4 meno 8 no un numero intero che andremo a mettere dove nella variabile val gli dobbiamo specificare vedete in questo modo particolare e commerciale val per specificare qual è l'indirizzo la locazione di memoria della variabile in cui vogliamo che venga memorizzato l'input dell'utente che sarà un numero intero questo però lo sto usando adesso solo per bloccare la finestra che si fermerà aspetterà che scriviamo un numero e poi si chiuderà quindi vedremo scritto a schermo ciao mondo punto esclamativo andrà a capo e a capo aspetterà che scriviamo qualcosa un numero intero vedete abbiamo creato un programmino molto semplice e adesso lo andiamo a eseguire per eseguirlo ho impostato il tasto f5 il tasto funzione 5 in modo che esegua il programma che abbiamo appena scritto e lo esegue sfruttando proprio il compilatore tnc che è interno al nostro editor quindi io potrei distribuire il file che avete visto prima che si chiama tccide.exe potrei distribuirlo e chiunque potrebbe usare questo editor e premendo f5 andare a eseguire il programma vediamo se funziona ed ecco qui che cerco di ingrandire per farlo vedere meglio vedete che si è aperta questa finestra tutta nera che è una classica finestra di questi programmi a linea di comando in cui c'è scritto proprio ciao mondo e come vedete sta aspettando che io scriva qualche numero appena lo scriverò vedrete che si chiuderà la finestra ecco l'esecuzione del nostro programma ha funzionato ha stampato ciao mondo sullo schermo e poi ha aspettato che scrivessimo un numero e allora per rendere la cosa un po più interessante proviamo a far fare qualche calcolo al nostro programma quindi subito dopo questa prima parte mettiamo magari ciao mondo 2 così anche la scritta cambia andiamo a stampare per esempio il fatto che il numero che avremo inserito il numero intero che avremo inserito elevato al quadrato da un certo risultato quindi potremmo scrivere per cento i per per cento i non si è capito ovviamente cosa sto inserendo eccolo qua semplicemente stiamo scrivendo sullo schermo che il numero che avremo scritto per il numero che abbiamo inserito è uguale a un certo risultato ora il numero che abbiamo inserito dove si trova si trova nella variabile val quindi al posto di quel percento i in questo print formattato il computer sa che deve andare a prendere il valore della contenuto nella variabile val e lo deve stampare a schermo al posto di questo percento i poi deve moltiplica deve scrivere per questo asterisco se volete ci mettiamo una x visto che siamo più abituati magari se siamo digiuni di informatica al per scritto in questo modo poi per cento i e di nuovo lo stesso val di prima quindi scriveremo se avremo inserito 24 scriverà 24 x 24 uguale ora dobbiamo scrivere qui il risultato al posto di questo altro per cento i e successivamente in queste questi argomenti che stiamo scrivendo andiamo proprio a fare il calcolo val per val che sarebbe il valore che abbiamo inserito moltiplicato per se stesso e quindi vedremo a schermo il risultato di questo prodotto ecco visto che magari questa cosa la vogliamo ripetere più volte potremmo mettere qui semplicemente un while ecco while è un costrutto diciamo un istruzione del linguaggio c che consente secondo una certa condizione di ripetere un determinato ciclo ciclo quindi noi riusciremo a scrivere a inserire più volte vedete qui il questo ciclo while che trovate qui va a leggere un dato che inseriamo e stampa a schermo il suo quadrato se vogliamo che tutto venga scritto su linee diverse dobbiamo mettere alla fine della riga stampata backslash n e questo è il programmino è chiaro che a un certo punto vogliamo che finisca tutto non vogliamo continuare a inserire valori all'infinito prima o poi il programma deve terminare perciò mettiamo una condizione if perché notate che il while qui lo sto facendo con una condizione true true vuol dire vero in inglese questo ciclo dura all'infinito se avessi messo una condizione differente per esempio ecco mettiamo mettiamo qui la condizione facciamo int val uguale 1 così già c'è un valore inserito allora facciamo che quando val è uguale a 0 il ciclo si interrompe quindi se noi inseriremo 0 come valore da elevare al quadrato subito dopo il programma scriverà 0 per 0 uguale 0 e poi si chiuderà la finestra quindi probabilmente non riusciremo proprio a vedere il risultato del calcolo poi magari lo facciamo da linea di comando allora si riuscirà a vedere quindi c'è in questo programmino molto semplice la funzione main che è quella che viene eseguita ogni volta che il programma viene eseguito appunto c'è la funzione printf che si occupa di stampare quello che gli chiediamo di stampare c'è la definizione di una variabile intera c'è un ciclo while che continua a essere eseguito finché quella variabile intera è diversa da 0 ecco per scrivere che la variabile per essere eseguito il ciclo deve essere diversa da 0 bisogna usare questo particolare operatore punto esclamativo uguale e qui facevo meglio a mettere dei caratteri più grandi però adesso non posso farlo bene abbiamo un programmino molto semplice allora cosa facciamo semplicemente ecco vi faccio notare che se chiudo la finestra non ho salvato direte voi ho fatto male ma in realtà il questo ide eccolo qui che l'ho riaperto è fatto in modo che quando si chiude la finestra salva automaticamente quindi se mi fossi dimenticato di salvare comunque ha salvato e ora andiamo a eseguire questo programma qui vediamo che cosa succede se funziona premiamo f5 ed ecco che abbiamo ottenuto la scritta iniziale ciao mondo 2 come avevamo detto si vede forse bene adesso ora inseriamo un numero per esempio andiamo inserire il numero 2 e vedete che ha scritto 2 per 2 uguale 4 e ha ricominciato quel ciclo while di cui vi parlavo se vado a scrivere 1 1 per 1 uguale 1 se vado a scrivere 10 100 se vado a scrivere 240.000 e così via vediamo se funziona anche con i numeri negativi meno 2 per meno 2 fa 4 e così via quindi vedete che sta funzionando è un semplice programmino però abbiamo effettivamente vedete qui il nostro id la nostra id che ci permette di scrivere dei programmi e premendo il tasto f5 li esegue anche ovviamente si possono creare programmi più complicati di questo e in ogni caso se non ci sono errori funzionerebbe lo stesso se ci fossero degli errori li segnalerebbe e cosa succede se andiamo a scrivere zero ecco vedete che è sparito tutto però ecco diamo un'occhiata nella nostra directory puliamo un po' tutto così vedete che per eseguire il programma questo tini c potrebbe anche eseguirlo semplicemente in memoria ma in questo caso vado a creare proprio il programma vedete prog.ci che è qui è il programmino che abbiamo creato 203 caratteri ed è questo programmino qua quello che vi ho mostrato prima prog.exe è il programma che tini c ha compilato e poi eseguito ripeto potrebbe anche non creare l'eseguibile come file potrebbe tenerlo in memoria ed è quello che si fa quando si usa questo sistema come linguaggio di scripting si prende il programma in c si fa compilare al volo e si esegue al volo senza creare il programma però qui il programma l'ho fatto creare e se vado a scrivere prog vedete che scrive ciao mondo 2 e poi aspetta che io scriva dei numeri 3 per 3 9 9 per 9 81 1201 al quadrato fa questo numero qui meno 12 fa quest'altro numero qua se metto 0 0 per 0 uguale 0 e vedete che è tornato alla linea di comando non è finito il programma perché il ciclo while ha concluso visto che la condizione è risultata falsa e così via si può tentare di andare avanti vediamo se metto un numero con la virgola vediamo se si arrabbia e sta si sta problematica la cosa ha preso 12 però adesso sta continuando a scrivere quindi ci vogliono un po' di controlli per fare in modo che non vengano scritti dei numeri che non vanno bene ecco questo quindi è il nostro compilatore editor che riesce a realizzare programmi scritti in linguaggio c e a eseguirli contestualmente direi che abbiamo visto proprio questo tnici quale caratteristiche ha non sarebbe facile con altri compilatori più enormi più mastodontici fare questa cosa qui perché ovviamente hanno già la loro il loro editor sono già fatti apposta ma ripeto il lo scopo di questo compilatore è di creare velocemente dei programmi eseguibili a partire dal linguaggio c compilandoli in linguaggio macchina ed eseguendoli in modo praticamente istantaneo perciò è da tenere in considerazione se volete fare giochetti di questo tipo come vi ho mostrato adesso vorrei mettere un errore nel programma per vedere se ho fatto le cose per bene se ci dice attento che c'è un errore di sintassi vediamo un po' se ci riesco per esempio mettiamo una scritta anche a caso che non andrebbe ovviamente bene qui oppure mettiamo una funzione sbagliata che non esiste e proviamo a far compilare questa roba qua vediamo che cosa succede ecco qui dunque c'è scritto string poi due punti 12 errore a a a 5 a non dichiarato ecco quindi si vede poco ma c'è scritto questo in pratica ci sta informando che nel nostro programma c'è un errore che si trova alla riga 12 ecco sarebbe interessante per rendere questo editor un po più sensato mettere qui di fianco i numeri di linea tanto per non mettersi qui a contare fino a qui e accorgerci che la linea 12 dove c'è l'errore è questa serie di 5 a che ovviamente non ci vogliono e se invece le tolgo quindi ha individuato il primo errore ce l'ha già segnalato se tolgo questo e vado a premere f5 questa volta ci dice avvertimento dichiarazione implicita della funzione a scanf che in realtà non esiste quindi in fase di compilazione ci darebbe comunque un altro tipo di errore qui ci dice solo che questa variabile questa funzione qui ha una dichiarazione implicita nel senso che non c'è la sua dichiarazione prima che venga usata e si trova nella riga 13 e poi dice ecco e poi altro errore dopo averci dato l'avvertimento che a scanf non è stato dichiarato a tempo debito tenta di compilare il programma e dice il simbolo a scanf è indefinito cioè non sa che cos'è questo a scanf non sa che funzione è non sa come linkarla nel programma finale e quindi alla fine il programma non viene compilato e poi si può ovviamente correggere e se andiamo a eseguire con la correzione ovviamente funzionerà ed ecco qui c'ha un mondo 2 come prima funziona tutto quanto e poi ho messo 0 e quindi si è chiuso a questo punto però sorge una domanda come abbiamo fatto a realizzare il nostro editor già l'abbiamo visto nel video precedente ma come fa lo stesso editor a o meglio il programma a compilare e qui adesso siamo passati a un editor normale il solito il solito visual studio code che noi usiamo normalmente e qui vedete il programmino che abbiamo scritto prima semplicemente no queste linee che erano nell'editor nostro vero e proprio e qui invece c'è il programma che è quell'editor del video scorso con alcune aggiunte ora non sto a mostrare come si leggono o salvano i file su disco in questo caso perché sono cose che insomma abbastanza poco interessanti se vi interessa poi scrivete qui sotto e andiamo invece a vedere quello che succede eccolo qui quando vogliamo compilare il nostro file volevo ingrandire ecco ci sono riuscito finalmente allora qui c'è la funzione window proc window procedure che è quella che continua a essere eseguita ciclicamente dalla finestra dell'editor che noi abbiamo aperto e su cui abbiamo scritto il nostro programmino a un certo punto quando viene premuto un tasto viene chiamata questa funzione e tra tutti i messaggi che arrivano continuamente alla nostra finestra col mouse che si sposta il mouse che viene cliccato i tasti che vengono premuti arrivano anche questi messaggi di tasto premuto wm key down e cos'è questo messaggio vuol dire che l'operatore ha premuto un tasto e a noi interessa gestire solo il caso in cui abbiamo premuto f5 perché in ogni caso tutti gli altri messaggi agli altri tasti premuti vengono gestiti automaticamente dal dall'editor e quindi va se premiamo una lettera la va a scrivere sullo schermo nella posizione giusta se diamo un invio va a capo e così via ma se premiamo il tasto f5 il tasto funzione 5 che ho scelto così arbitrariamente che cosa succede ecco innanzitutto si va a riempire uno spazio di memoria che ha una dimensione di andiamo a vedere di 10.000 caratteri ecco bisogna stare attenti a non scrivere dei programmi più lunghi di 10.000 caratteri perché il buffer size è di quelle dimensioni lì però potrei ingrandirlo ovviamente potrei fare queste cose in modo dinamico ci sono tanti modi però qui per far prima ho creato un array di caratteri con dimensione fissa 10.000 caratteri dopodiché con la funzione delle windows api get window text vado a prendere il testo che è contenuto dentro all'editor e lo vado a memorizzare dentro a questo array quindi il testo che abbiamo scritto viene inserito nella memoria in particolare in questo array qua e adesso inizia la parte interessante perché noi dobbiamo compilare questo testo e ci sono queste funzioni che vedete qui che sono effettivamente quelle che tini c riesce con cui tini c riesce a compilare anche all'interno della memoria del computer in pratica si va a creare innanzitutto un'istanza di questo compilatore che ha come diciamo definizione questo tcc state lo stato del compilatore questo è un puntatore appunto allo stato del compilatore che viene restituito dalla funzione tcc underscore new crea un nuovo compilatore in pratica poi andiamo a specificare con questa funzione che non sto a leggere perché è complicata specificando il compilatore a cui ci stiamo riferendo e andiamo a specificare qual è la funzione che va richiamata se c'è qualche errore è quella funzione che apriva le finestre di dialogo dicendo è successo questo errore qua che avete visto poco fa quindi è un collegamento tra il compilatore il mondo esterno che potrebbe essere benissimo un mondo a interfaccia carattere o come abbiamo fatto noi con windows che si va a occupare di mostrare queste questi risultati poi specifichiamo che vogliamo che la compilazione crei un eseguibile sul computer sul file un file eseguibile sul computer noi potremmo qui specificare invece di exe memory e l'eseguibile verrebbe creato in memoria senza creare alcun file e potremmo eseguirlo direttamente in memoria poi specifichiamo con quest'altra funzione qui qual è il testo che vogliamo compilare il sorgente che vogliamo compilare e specifichiamo poi che vogliamo creare un file eseguibile che si chiama prog.exe una volta fatto questo la compilazione funziona quindi viene eseguita la compilazione e poi si va a distruggere questo questo compilatore non serve più lo distruggiamo e viene eseguito questo programma grazie alla funzione di windows win exec questo win exec va a prendere un file sul computer e lo va a eseguire mostrandolo con quelle finestre nere che avete visto sullo schermo perché questo programma è appunto a linea di comando quindi va aprire una finestra del dos diciamo ecco se fosse invece un eseguibile differente potrebbe aprire addirittura una finestra di windows ecco quindi vedete che ci sono tutti questi queste funzioni che vanno a compilare il sorgente che abbiamo creato e lo vanno addirittura a eseguire ecco questa è la parte il cuore del nostro id del nostro editor compilatore ecco tutto qua bene spero che questo tipo di video che riguardano il linguaggio c e questo particolare compilatore che ormai comincia a essere un po' datato in effetti abbiamo a che fare con lo standard iso c99 quindi roba ormai che è vecchia di 25 anni il linguaggio c avrà degli standard più moderni e poi sicuramente quello che portano avanti molto di più è il linguaggio c++ quindi il linguaggio c è un po' così un po' datato diciamo però in effetti è la base su cui poi tanti linguaggi si sono evoluti per diciamo modificare correggere certi aspetti del linguaggio c che lo rendevano difficile da usare e facilmente poteva causare errori di programmazione che anche i programmatori più attenti potevano potevano caderci con tutte le scarpe bene mi raccomando se avete domande qui sotto in nei vari commenti scrivete se vi interessano queste cose o se avete altro da suggerire su linguaggi di questo genere suggerite e vedremo di accontentarvi prima o poi a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti